Buona domenica. Oggi 7 ottobre è la ventisettesima domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma ma dall'inizio della creazione Dio ti fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei e se lei ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio. Siamo all'inizio del capitolo decimo di Marco. Gesù senti avvicinarsi la sua passione. Gli è rimasto poco tempo per istruire i discepoli. Per questo passa ad insegnare con particolare chiarezza e senza peli sulla lingua la novità del messaggio che sta portando al mondo. Marco mette così in evidenza la differenza tra il modo di pensare del mondo rappresentato dai farisei ed il messaggio del Vangelo, il modo di pensare e di vivere di Gesù. Immediatamente prima del nostro brano aveva insegnato che i discepoli debbono essere il sale della terra, cioè coloro che annunciano in tutta la sua novità ed il suo sapore il Vangelo. Guai se anche loro diventassero insipidi, se si accodassero passivamente alle idee sbagliate di chi urla di più. Se il sale perdesse il suo sapore, con cosa lo si potrà ancora rendere salato? Cioè, se anche la Chiesa smette di annunciare la verità del Vangelo, per timore di perdere il consenso di chi cerca una vita comoda e avara, come dice Papa Francesco, chi mai potrà farlo? Questo è il contesto dello scontro fra Gesù e i farisei. Uno scontro nella chiarezza, senza finzioni, che affronta la novità del messaggio di Gesù su un punto cruciale e quindi richiede particolare attenzione. I farisei partono subito con una domanda chiara. È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie. Il ripudio, cioè una specie di divorzio facile, quasi senza alcuna limitazione e per di più possibile soltanto per i mariti, non era una novità. Il divorzio, come la poligamia, sono molto più antichi, anzi più primitivi e cavernicoli del matrimonio fedele e monogamico, cioè del matrimonio cristiano. Divorzio, libera convivenza, coppie omosessuali erano considerate normali nella società greca e romana che le avevano imparate dai popoli primitivi risalendo fino all'età delle caverne. Nel popolo eletto, grazie all'insegnamento biblico, c'era invece stato un progresso. Tra gli ebrei, chi ripudiava una donna, doveva farlo per un motivo serio. Doveva poi consegnarle un documento scritto con cui la rendeva capace di risposarsi, riconoscendole anche dei diritti economici. La legislazione di Mosè voleva così almeno evitare che un uomo potesse lasciare e riprendere una donna a suo piacimento, rovinandole per sempre la vita. Il ripudio era perciò nel tempo di Gesù considerato normale. Allora, se i farisei fanno questa domanda a Gesù è perché sentono che la logica dei suoi insegnamenti sull'amore rendeva il ripudio non più tanto normale. Questo modo di amarsi a tempo, finché dura, finché conviene, appariva improvvisamente più barbaro e meno buono di ciò che Gesù insegnava. L'amore cristiano, proposto dal Vangelo, generoso, preoccupato più di donare che di ricevere, capace di perdonare, appariva piuttosto distante dalla logica normale del divorzio. Eppure questo amore nuovo che Gesù proponeva appariva più attraente, più affascinante, più bello e civile. Ma era possibile? Questo amore, questo amore nuovo, appariva un miracolo. Ma con Gesù i miracoli stavano diventando possibili. Ecco perché gli rivolgono la loro domanda i farisei. Gesù non risponde subito alla loro domanda, ma rinvia i suoi interlocutori a meditare l'insegnamento della Bibbia. Essi allora gli rispondono con una logica che appare stringente. Se Mosè ha dato delle norme per regolamentare il ripudio, allora il ripudio è buono. Gesù invece interviene spiegando la scelta di Mosè. Egli ha fatto questo perché aveva davanti un popolo dal cuore duro. Si tratta di un'immagine usata spesso dai profeti. Il cuore duro, il cuore di pietra. Vuol dire che l'uomo da solo è incapace di amare così. Se Dio, come dice Ezechiele al capitolo 36, non gli cambia il cuore e da un cuore di pietra lo trasforma in un cuore di carne. L'amore, l'amore matrimoniale non è possibile senza la grazia di Dio.